Partiamo da questo gol, la prima domanda che ci stiamo facendo tutti, hai cancellato, non c'è stata indicazione di gol, è tutto tuo? No, tutto mio, con un pizzico di fortuna ma tutto mio, sì sì. Finalmente ti aspettavo, ti aspettavi, questo gol ti aiuterà a sbloccarti ancora di più a Regner? Beh certo, mi darà una spinta in più, però adesso tocca continuare a cercare di fare bene e basta quello. Giorgio, che condizioni stai se devi dare la tua valutazione? Direi sì, sì, pronto di giocare dal primo minuto, certo. Giulio, complimenti per il gol innanzitutto. Tornando un po' indietro, come sento fa, Foggia ha parlato di te, dicendo che devi misurare qualche atteggiamento, cosa è successo in quel frangente e cosa è cambiato in questo lasso di tempo? Ora, hai capito i tuoi sbagli, se ci sono stati? No, vabbè, sì, volevo, un po' come tutti i giocatori, giocare di più, un po' sbagliato i modi, ma è finita lì, da quel giorno ho cercato di impegnarmi sempre senza parlare. Certo, certo. Quanto conta la tua tecnica in un campionato del genere? Indubbiamente sei uno dei giocatori più tecnici, quanto occupata si nota? Non so, come ti faccio a rispondere su sta domanda io, devono dire gli altri, no? Quanto conta gli allenatori. C'è un clima diverso, Giorgio, rispetto magari anche alla passata a Giorgio, cioè sembrate molto più squadra, oggi a fine partita ti sono venuti tutti quanti da abbracciare, e credo sia un gesto che magari l'anno scorso poteva non succedere, invece questa non succede, la forza di questa squadra. Beh, assolutamente, come è giusto che sia, direi, siamo primi, quindi ovviamente sono tutti contenti, siamo un grande gruppo quest'anno, speriamo di portare tutto questo clima fino alla fine.